Amici del soft libero open source, benvenuti o bentornati in questa 131esima puntata del podcast di Marcos Box. Minchia che freddo che fa oggi. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del soft libero open source. Che dire, questa puntata sarà una puntata un po' polemica per alcune notizie che hanno suscitato polemiche negli ascoltatori. Ma andiamo con ordine e iniziamo. Iniziamo con la prima polemica, così ci leviamo subito il dente e possiamo passare agli argomenti un po' più leggeri. La polemica riguarda un annuncio fatto dalla Document Foundation, la fondazione che c'è dietro allo sviluppo di LibreOffice, che ha annunciato il rilascio di LibreOffice sul Mac App Store di Apple. Non è una novità. In prestato c'era una versione presente all'interno del Mac App Store di Apple, ma era una versione rilasciata da Colabora. Questa per la prima volta adesso è una versione rilasciata direttamente da Document Foundation. Quindi è una versione ufficiale al 100%. The Document Foundation, al momento dello scaricamento di LibreOffice dal Mac App Store di Apple, addebiterà una commissione di 8,99€. Questo costo, questo sborso di denaro da parte degli utenti, sarà investito per sostenere lo sviluppo di LibreOffice. Il rilascio di questa versione a pagamento sul Mac App Store rappresenta una evoluzione rispetto alla situazione precedente che riflette la nuova strategia di marketing del progetto. The Document Foundation si concentra sul rilascio delle versioni community di LibreOffice, mentre le aziende, l'ecosistema si concentrano sulle versioni supportate a lungo termine, quindi con valore aggiunto, quelle destinate appunto alle aziende che hanno bisogno di stabilità al massimo livello. The Document Foundation comunque ha annunciato che continuano a fornire LibreOffice per Mac OS gratuitamente, scaricandolo dal sito web di LibreOffice, quindi se uno è pigro lo scarica dal Mac App Store di Apple, ma se uno è un po' più scavato e un po' più addentrato, può scaricarlo liberamente dal sito di LibreOffice. Le differenze tra la versione presente sul Mac App Store di Apple e quella presente scaricabile gratuitamente dal sito web di LibreOffice, beh, LibreOffice confezionato per il Mac App Store di Apple è basato sullo stesso codice sorgente LibreOffice, ma non include Java, questo perché le dipendenze esterne non sono ammesse sullo store, quindi la versione presente sul Mac App Store di Apple è limitata nelle funzionalità di LibreOffice base. E beh, indovinate un po', in questo caso è nata la polemica perché hanno iniziato a dire «Eh, ma adesso è pagamento, eh, ma babababa». E torniamo al discorso della vecchia puntata, della precedente puntata del Podcast, nel quale vi dicevo la gente ancora non ha capito che determinati software sono gratuiti, ma per poter essere mantenuti gratuiti per tutti, per poter essere, continuare a rilasciare, hanno bisogno anche di un supporto economico piccolo tramite donazione, ma in questo caso quella di 8,99 è una piccola donazione che andate a fare al progetto. Non rappresenta veramente il costo che avrebbe un simile software se fosse a pagamento, quindi polemiche che per me non hanno senso di esistere. Poi vabbè, ci sono state le solite classiche battutine sugli utenti Apple, ma che in effetti poi ci sta. L'utente Apple mediamente spende di più per il proprio computer, e immagino che per i 8,99 non siano un esborso così esioso. E l'altra polemica ovviamente nasce in casa Canonical, perché Canonical e Microsoft hanno annunciato il supporto a Systemd nel Windows Subsystem per Linux. Questo aggiornamento tanto atteso del Windows Subsystem per Linux sblocca un gran numero di funzionalità importanti per la gestione di processi e servizi, e questo include anche il supporto per Snapd, che consente agli utenti di poter sfruttare tutti gli strumenti e le applicazioni disponibili su snapcraft.io. Il supporto a Systemd è particolarmente utile per gli sviluppatori web, che magari vogliono distribuire, sviluppare applicazioni all'interno del Windows Subsystem per Linux, prima di distribuire per cloud. E ovviamente, come vi dicevo, in apertura ci sono state delle problemiche, perché ogni qualvolta c'è la parola Canonical associata, messa vicino a Microsoft, ci sono problemiche infinite, perché dicevo Canonical brutta e cattiva, Canonical blabla, riserva del male, eccetera, eccetera. E prima parlavamo della necessità da parte nostra di supportare i progetti open source che noi amiamo, che noi utilizziamo. Ci sono progetti open source validi che faticano a trovare denaro, ovviamente ci sono progetti open source che invece basta che camminano e gli piovono soldi dall'alto. Vedete per esempio Blender. Un altro di quei progetti che stanno ultimamente attraendo sostegno economico da parte anche di partner importanti è Krita. La Krita Foundation, che è la fondazione che sta dietro allo sviluppo di Krita, il famoso software per la pittura digitale, ma che viene utilizzato anche da molti come alternativa a GIMP, dicevo, la Krita Foundation ha annunciato che Intel è diventato il primo gold patron del fondo di sviluppo di Krita. Questa è una collaborazione strategica che non solo si tradurrà in un supporto economico, ma consentirà anche uno scambio di conoscenze tra gli sviluppatori di Krita e quelli di Intel che consentirà a Krita di sfruttare a pieno le tecnologie Intel Core Hybrid presenti sui processori di dodicesima generazione di Intel, nonché le nuove GPU Intel Arc. Con il supporto di Intel Krita potrà costruire una base più stabile per gli sviluppatori e avrà la possibilità di assumere e mantenere i migliori sviluppatori del settore per migliorare il software. La nuova partnership con Intel sta già portando alcuni miglioramenti, come quelli che sono stati ottenuti in Krita 5.1. Mi riferisco in questo caso al pieno supporto del nuovo formato di file JPEG XL. JPEG XL è il nuovo formato di immagine che offre una compressione migliore e una qualità delle immagini notevolmente migliore rispetto a un classico JPEG ed è un formato attualmente dietro flag sperimentale nella maggior parte del browser web ma che in futuro verrà implementato su larga scala ed è un formato che Krita vuole supportare e Krita e Intel stanno lavorando con gli sviluppatori di JPEG XL e con quelli di Chrome per garantire l'interoperabilità. Quindi una cosa buona per tutti quanti quegli creatori che intendo rilasciare le proprie opere in questo formato. In futuro poi la comunità di Krita collaborerà con Intel per la creazione della documentazione tecnica sotto forma di white paper. Quindi complimenti a Krita che è riuscita a tenere un supporto da un partner così importante. Cambiamo decisamente argomento, ma meglio, Restiamo comunque in ambito di applicativi con la notizia riguardante il rilascio della versione 105 di Firefox ovviamente rilasciata per Windows, Mac OS e Linux. Questa nuova versione del famoso browser web porta con sé diversi miglioramenti che vanno a migliorarne le performance sia su Linux che su Windows. Va ad aggiungere poi ulteriori funzionalità, per esempio è stata aggiunta un'opzione per stampare una sola paragina corrente della finestra di anteprima di stampa e chi, come me, stampa dalla mattina alla sera quando si trova al lavoro gradisce molto questa aggiunta. Dicevo, ci sono state migliorate le performance ad esempio su Windows è stata migliorata la stabilità Firefox adesso gestisce molto meglio le situazioni di scarsa memoria su Linux Firefox ha meno probabilità di esaurire la memoria e funziona in modo più efficiente per il resto del sistema quando la memoria è insufficiente. Poi sono state fatte anche delle aggiunte interessanti per esempio per gli utenti Mac OS con lo scorrimento del touchpad che è adesso reso più accessibile riducendo lo scorrimento involontario opposto al gas di scorrimento previsto una cosa se utilizzate su Mac OS di sicuro sapete a che cosa mi sto riferendo altre novità non ce ne sono degne di nota per gli utenti comuni vi segnalo che comunque è stata rilasciata il giorno 20 è stata rilasciata la versione 105 e quest'oggi giorno 23 che è il giorno che sto registrando questa puntata del podcast è stato già rilasciato un mino rapidete che va a correggere e mi domando perché Firefox fa sempre così rilasciare l'aggiornamento poi dopo pochi giorni già ne metterci qualche minor release per facciare qualche cosa che è andata male un po' più attenzione e restiamo a parlare di browser web con una notizia che arriva da Brave Brave browser si arricchisce di un servizio di traduzione delle pagine web sia nella versione desktop che quella per Android al fine di garantire la migliore privacy possibile per gli utenti Brave ha deciso di affidarsi a una soluzione self-forced basata su RingVanex similmente a quando già fatto da Vivaldi negli scorsi anni Brave Translate, questo è il nome scelto per la funzione italiana di traduzione è già disponibile nel canale stabile di Brave browser quindi complimenti a Brave che anche lui si aggrega finalmente alla lista dei browser che hanno un traduttore integrato e in questo caso un traduttore più rigio alla privacy più attento alla privacy rispetto a quelli integrati ad esempio in Google Chrome e niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate se utilizzate Brave e se trovate utile questo motore di traduzione se funziona correttamente, se funziona bene lasciate un commento, mi raccomando e fatemi fare una frecciatina a quelli di Firefox che hanno introdotto dopo anni e anni e anni e anni e anni e anni di richieste la funzionalità di traduzione delle pagine web all'interno della versione desktop di Firefox ma ancora non fate quel piccolo passettino aggiuntivo per poter portare questa funzionalità anche lato mobile la gente adesso utilizza i telefonini, lo sapete quindi questa funzionalità mi sarei aspettato che arrivasse prima su mobile o meglio, quantomeno che arrivasse contemporaneamente alla versione desktop anche su mobile perché la gente, ripeto, utilizza i telefonini per navigare quindi ha necessità, magari se si è, una pagina in cinese o in tedesco o in francese e non lo sa di poter tradurre avete capito? mannaggia poi e passiamo alle notizie di gossip informatico mi viene da dire, mi viene da utilizzare questo termine ci sono delle buone e forse cattive notizie per tutti quanti gli utenti di PopOS dipende da come vedete, da come siete abituati a vedere i bicchieri se è mezzo pieno o mezzo vuoto da quanto emerge da una discussione presente su server discord di PopOS e confermato poi successivamente da uno degli sviluppatori di System76 su credit molto probabilmente non avremo PopOS 22.10 anzi quasi sicuramente il motivo è legato allo sforzo che gli ingegneri di System76 stanno combiendo per l'implementazione in Rust di Cosmic il desktop environment di PopOS che come vi avevo parlato qualche tempo fa sulle pagine di Marcosbox si appresta ad essere ribasato su Rust che si è riscritto in Rust e a portare anche qualche altra funzionalità interessante e soprattutto ottimizzazioni per quanto riguarda i consumi delle risorse e quant'altro gli sviluppatori hanno deciso hanno annunciato, meglio hanno fatto trapelare che concederanno i propri sforzi nelle implementazioni in Rust di Cosmic che ricordo a tutti quanti inizialmente si parlava si diceva che sarebbe arrivato durante l'estate chiedo scusa durante l'estate ma adesso siamo il 23 di settembre e ancora non c'è nulla di concreto o meglio mi è stato detto che c'è un pacchettino che è possibile installare per poterlo testare in anteprima però ancora non ci ho messo le mani non so se verrà questa cosa o meglio non so quanto sia vera comunque dicevo gli sviluppatori hanno deciso che concederanno i propri sforzi nell'implementazione in Rust di Cosmic invece di dedicarsi al rilascio di una release semestrale di PopOS basata su .22.10 effettivamente il ciclo di rilascio di 6 mesi consuma troppe risorse a risentirne poi alla fine sempre la stabilità del prodotto adesso non ci resta che attendere un comunicato ufficiale sul blog di PopOS e vedere se la notizia verrà confermata o ci sarà un ripensamento o quant'altro speriamo speriamo che che sia vera questa cosa perché io ci tengo a PopOS che ci tengo al fatto che si concedono i sviluppatori su su un nuovo desktop environment sulla nuova serie di Cosmic scritta in Rust perché sono curioso di vedere come si comporta come si comporterà e concludiamo questa puntata parlando di di un rilascio importante per quanto riguarda i desktop environment utilizzati su Linux il team di Gnome ha rilasciato Gnome 43 Guadalaiara spero di averlo pronunciato bene questa nuova versione di Gnome che arriva dopo 6 mesi di duro lavoro incude miglioramenti su tutta la linea che vanno da un nuovo menu delle impostazioni rapide un'applicazione file ridisegnata l'integrazione della sicurezza hardware all'interno delle impostazioni di sistema e il continuamento della migrazione da GTK3 a GTK4 per molte delle applicazioni di Gnome e insomma hanno lavorato hanno lavorato per perfezionare per rendere sempre migliore questo desktop environment hanno introdotto poi la funzionalità delle web apps in web il browser desktop che troviamo su Gnome è una funzionalità che c'era già c'è già anche su altri browser e finalmente anche web si adegua ci sono poi una serie di miglioramenti vari nella funzionalità di screenshot nella tastiera schermo nelle animazioni nella panoramica delle attività che adesso sono state ottimizzate e rese più fluide e varie ottimizzazioni qua insomma andatevi a leggere il comunicato che ho pubblicato su marcosbox con il changelog completo e se avete voglia di provare Gnome 43 sapete già chi vi dovete riferire chi è che mi scrive a questo dicevo sapete già chi vi dovete vi dovete rivolgere ovvero sto parlando di Fedora quindi il prossimo rilascio in forma stabile avrà Gnome 43 che verrà rilasciato nel mese di ottobre oppure di migrare su una distribuzione basata su Arch o Arch stessa quindi Endeavor è quello che fa per voi se odiate l'installare di Arch ecco questa ultima notizia si conclude qui questa cento traesima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social quindi Facebook Twitter YouTube LinkedIn con il profilo privato mi trovate anche su Telegram con all'attivo un canale dedicato alle notizie quindi che potete utilizzare a modo di feed RSS per restare sempre aggiornati sugli articoli pubblicati su Marcosbox comunque trovate anche i feed RSS su Marcosbox trovate poi un canale dedicato alla community dove non si parla soltanto di Linux e un canale dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog perché sapete come funziona acquistando su Amazon dai link referrer il codice referrer è Marcosbox trattino 21 lo trovate comunque pubblicizzato anche sulle pagine di Marcosbox acquistando da uno di link referrer o acquistando dandolo a manette a manette link referrer potete supportare il blog perché Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale vi ricordo inoltre che se volete supportare il blog e avete bisogno di una VPN potete farlo abbonandovi o rinnovando il vostro abbonamento sia a NordVPN che a Surfshark che a Atlas VPN quindi se avete bisogno di una VPN utilizzate i miei link referrer e in questo caso supporterete anche il blog lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci risentiamo alla prossima puntata del podcast di Marcosbox la prossima settimana ciao ciao